Pare poco solido, mentre i piccoli gruppi si preparano all'annunciato Vietnam parlamentare, i 5 Stelle definiscono l'Italicum incostituzionale. Questa è la peggior riforma elettorale che passa in questo Parlamento. Addirittura dalle simulazioni che ci sono state consegnate pochi giorni fa, è evidente come sia una legge studiata contro il Movimento 5 Stelle.